Io ho visto Conte e Allegri, sicuramente Allegri è quello che mi sono trovato meglio perché l'ho avuto a Cagliari, l'ho avuto a Milano, l'ho avuto a Juve ho salvato un grande rapporto sia in campo che fuori quindi posso dire solo lui, poi anche con Conte mi ha insegnato tanto ma mi ha dato tanto dal punto di vista tecnico e tattico quindi posso solo ringraziarlo, mi ha permesso di vincere anche gli scudetti quindi solo ringraziamento